A voi tutti ben ritrovati, come sempre su Meteo Giuliaci, un saluto da Giuseppe De Vitis. È iniziato giugno, è iniziato questo fine settimana con temperature piuttosto elevate, temperature che stanno ancora aumentando un po' al centro e al sud, ma stanno aumentando comunque anche sulle regioni settentrionali. Proprio sulle regioni settentrionali, per fortuna, in questo weekend l'instabilità è un po' meno convinta, anche se ancora anche nella giornata di sabato si accenderà dell'instabilità nel pomeriggio su zone alpine e prealpine e verso il tardo pomeriggio prima serata potrà sconfinare, guardate, anche su alcune aree di pianura del Piemonte. Altrove bel tempo, poche nuvole al nord, cielo prevalentemente sereno sul resto d'Italia, lungo la dorsale appenninica dei modesti addensamenti nuvolosi che saranno un po' più convinti in grado di apportare dei fugaci rovesci di pioggia tra l'Abruzzo e il Molise, sempre nelle ore centrali del giorno. Per il resto null'altro da segnalare. Vi ricordo che cliccando qui in alto a sinistra potete iscrivervi al nostro canale, fatelo mi raccomando, mentre cliccando qui in basso a destra entrerete direttamente e velocemente nel nostro sito. Arrivederci!